Bentornati alle colonne d'Ercole, storie, aneddoti, veri, miti e false leggende del mondo delle colonne sonore. Allora, riflettevo qualche giorno fa che l'anno di cui vediamo oggi la storia, cioè il 1971, l'anno di Morricone, ovviamente nell'ambito di quello che ho chiamato gli anni folli di Morricone, è stato un anno particolare perché, benché Morricone abbia fatto ben 22 colonne sonore, che vedremo oggi, non è stato il massimo. Il massimo lo riungeremo l'anno prossimo. E anche se non è stato il massimo, pensate a cosa può voler dire scrivere 22 colonne sonore in un anno, vuol dire quasi due al mese praticamente. Pensate che io quest'anno probabilmente scriverò tre colonne sonore e due si pestano un pochettino i piedi, nel senso che si stanno accavallando. E quindi molte volte la cosa difficile è, da una parte, meramente organizzativa, quindi incastrare la registrazione da una parte, il mix dall'altra, il montaggio dall'altra, il provino dall'altra, ma poi c'è un problema molte volte anche proprio di testa, nel senso che magari sono trattarsi di due film estremamente diversi tra loro, si è magari concentrato sull'idea di una musica thriller, una musica drammatica, e poi magari dall'altra parte stai facendo una commedia, insomma, che ovviamente richiede, come dire, un approccio mentale, non fosse altro mentale, oltre che musicale, completamente diverso. Ma vediamolo questo 1971 di Morricone. Allora, partiamo con un film importante come Il Gatta Nove Code, vediamo qui La Locandina, di Dario Argento, era già iniziata la collaborazione di Dario Argento col film precedente, ve lo ricordate? L'uccello dalle piume di cristallo, e continua la collaborazione anche in questo film. In questo film abbiamo già parlato, ed è il rapporto Morricone-Dario Argento, nella puntata su Profondo Rosso, che vi invito ad andarvi a rivedere. Allora, la musica utilizzata in questo film è stata usata anche da Quentin Tarantino nell'ennesimo suo omaggio al cinema e alla musica italiana, nel film Greenhouse, nell'episodio che aveva appunto diretto Tarantino. È una coproduzione americana, perché? Perché l'uccello piume di cristallo era andato molto bene negli Stati Uniti, quindi una produzione americana aveva deciso di salire a bordo del film successivo di Dario Argento. Nonostante invece la produzione italiana non fosse convintissima del film, non fosse convintissima dell'impatto che avrebbe avuto sul pubblico, il film incassò ai tempi, 1971, ben 2 miliardi solo in Italia. Proseguiamo con la nostra carrellata. Gli occhi freddi della paura, regia di Enzo Castellari, Verusca, poesia di una donna, regia di Franco Rubartelli, e una produzione televisiva, la scoperta dell'America, con la regia di Sergio Giordani. Una lucertola con la pelle di donna, regia di Lucio Fulci, uno dei grandi padri del film thriller e anche horror italiano. La particolarità di questo film, che vale la pena raccontare, è che gli effetti speciali sono stati fatti dal grande Carlo Rambaldi, che una decennia di anni dopo, più o meno, verrà chiamato da Steven Spielberg a costruire niente po' di meno che E.T. Pensate che per questo film ci fu una causa, perché c'era una scena in cui la produzione era stata accusata di aver vivisezionato dei cani. E praticamente Rambaldi fu costretto a portare in tribunale quelle che erano i cani finti, naturalmente, dimostrando che quindi tutti gli sventramenti, tutte le scene terribili e violente che c'erano state nel film erano nient'altro che una finzione e che nessun animale era stato maltrattato durante la produzione di quel film. Perché lucertola? Perché siamo negli anni della cosiddetta Trilogie degli Animali di Dario Argento, ve la ricordate? Il Gatto Nove Code, Quattro Mosche Veluccio Grigio e naturalmente il primo L'Uccello delle Piume di Cristallo. E quindi in quegli anni tanti film del filone thriller e horror avevano un animale nel titolo e nella storia perché andava molto di moda. E a dimostrazione di quello che vi ho appena detto vediamo il prossimo film La Tarantora dal ventre nero regia di Paolo Cavara ancora la presenza degli animali che in una maniera o nell'altra entrano nella vita degli uomini quasi sempre in maniera abbastanza traumatica e violenta in questa tipologia di film. Addio Fratello Crudele regia di Giuseppe Patroni Griffi Oceano con la regia di Folco Quilici una via di mezzo tra un film e un documentario Il Decameron ennesimo film di Pierpaolo Pasolini con la colonna sonora di Ennio Morricone Io non ho visto questo film non è altrettutto facilissimo da trovare però in alcune edizioni si è scritto musiche a cura di Pierpaolo Pasolini con la collaborazione di Ennio Morricone che non so esattamente cosa voglio dire per ripeto il film non l'ho visto quindi non mi pronuncio in materia insomma C'è da dire una cosa importante di questo film che ai tempi fece 4 miliardi di incassi alla faccia di chi vedeva in Pasolini semplicemente l'intellettuale magari raffinato dal punto di vista anche della tipologia di film e della tipologia di documentari e di tutto quello di cui si occupava Pasolini ma fondamentalmente un po' relegato a una nicchia abbastanza ristretta invece 4 miliardi di incassi di tempi e Orso d'Oro Berlino Sacco e Vanzetti con la regia di Giuliano Montaldo l'ennesima collaborazione veramente che negli anni ha sempre dato ottimi frutti fra Morricone e un regista film bellissimo che vi consiglio di vederlo lo trovate anche su varie piattaforme di streaming che racconta la storia vera di Sacco e Vanzetti due anarchici italiani che furono ingiustamente accusati negli Stati Uniti e condannati a morte ma la sede elettrica se non sbaglio legato a questo film c'era una canzone che ai tempi diventò famosissima e non solo perché era molto bella ma perché era cantata da Joan Baez che negli anni 60 e 70 è stata una delle più importanti cantanti pop poi legate anche a tutte le questioni di diritti civili eccetera eccetera quindi in un caso come questo in cui c'era stata una palese ingiustizia nei confronti di questi due imputati condannati innocentemente alla pena di morte come dire la presenza di Joan Baez era particolarmente significativa la canzone era Here's to You ed era questa Canzone che ribadisco era famosissima ai tempi e tutti con la mia generazione con tutto che è una canzone precedente la mia generazione comunque tutti la conoscono magari forse i ragazzi di oggi non l'hanno mai sentita mi v'è sicuro che i tempi era famosissima proseguiamo con la nostra carrellata Giornata nera per la rete regia di Luigi Bazzoni La classe operaia va in paradiso continua a sodalizio con Elio Petri e esce un altro film importantissimo che i tempi ebbe un grande successo più di pubblico che di critica una certa parte della critica di sinistra in realtà nonostante le chiare simpatie di Elio Petri dal punto di vista politico criticò aspramente il film poi un altro progetto televisivo Tre donne per la regia di Alfredo Giannetti La cortanotte delle bambole di vetro regia di Aldo Lado L'istruttore chiusa Dimentichi regia di Damiano Damiani Incontro regia di Piero Schiva Zappa Gli scassinatori con la regia di Henri Verneu con cui Morricone aveva già collaborato ve lo ricordate un paio di puntate fa ne abbiamo parlato Forza G con la regia di Duccio Tessari Quattro mosche di Velluto Grigio il terzo film di Dario Argento con le musiche di Ennio Morricone peraltro devo dirvi che dopo questo film la collaborazione tra Argento e Morricone si interromperà per tanti anni per più di vent'anni fino al 1996 le ragioni sono due fondamentalmente la prima è che e c'era stata già qualche piccola tensione nel film precedente e in particolare con questo poi devo dire la direzione stilistica non era la stessa per cui Dario Argento aveva una certa idea e Morricone aveva una certa idea per cui siccome dopo questo film è entrato nella vita artistica di Dario Argento Claudio Simonetti e comunque tutta la musica di Goblin per tanti anni le colonne sonore di Dario Argento le scriveranno i Goblin e non Ennio Morricone Senza movente regia di Philippe Labrò Correva la noi grazie 1870 regia di Alfredo Giannetti Giù la testa regia di Sergio Leone e su questo film non possiamo non soffermarci e su questo film allora che cosa possiamo dire di questa colonna sonora famosissima che segue un po le orme di quello che era stato c'era una volta al west vi ricordate quando l'abbiamo vista qualche puntata fa avevamo notato il fatto che la parte lirica la parte melodica la parte anche sentimentale perché no che normalmente in un western è abbastanza insolito a trovare aveva invece in questa colonna sonora quindi sia in cielo nella volta al west sia in giù la testa una parte preponderante tanto è vero che questo comunque il tema principale che ci ricordiamo del film e c'è da dire anche che Morricone utilizza una serie di accordi in particolare di settima maggiore senza entrare in tecnicismi che non interessano la maggior parte delle persone però c'è una serie di accordi che generalmente non venivano utilizzati nel western perché l'accordo di settima maggiore è un accordo molto molto morbido è come dire per capirci questo qua è un accordo molto molto morbido che infatti viene usato spesso nella musica pop e spesso anche nel jazz che raramente si usava nel western perché perché western in cui la fase epica la fase avventurosa è normalmente quella preponderante non ci vanno accordi morbidi non ci vanno accordi come dire un po' sfumati e che sottintendono una certa dolcezza al contrario c'erano degli accordi molto determinati un'armonia ben precisa e molto forte in un certo senso e invece invece Morricone anche in questo genere come dire da veramente il suo da veramente la sua impronta non solo la dà nella prima fase della sua carriera nella quale ha scritto tantissime colonne sonore per film western e che sono diventate insomma veramente leggendari pensiamo tutto appunto a parte il buon e il brutto e il cattivo che sapete che è la mia preferita ma comunque moltissime altre anche di film meno importanti e meno famosi ma poi la seconda parte del suo approccio al western è questo dove la dolcezza il lirismo la delicatezza il sentimento perché no vengono veramente prepotentemente fuori bene chiudiamo qui la penultima parte degli anni fogli di Ennio Morricone quella riguardante il 1971 le 22 colonne sonore che ha scritto quasi due colonne sonore al mese ma non perdetevi la prossima puntata l'ultima tra l'altro di questa sera e poi torneremo a parlare di altre colonne sonore e di altri e di altri compositori oltre all'Ennio nazionale il 1972 l'anno più folle degli anni fogli di Ennio Morricone non mancate